architetto pittore scultore e scrittore leon battista alberti è forse il teorico d'arte più importante del rinascimento figlio illegittimo di un banchiere fiorentino esiliato nacque a genova nel 1404 studiò a padova e all'università di bologna e fu apprezzato latinista pensate che a vent'anni scrisse una commedia in latino ritenuta e acclamata come una scoperta di età romana alberti visse a roma per gran parte della sua vita ma viaggiò molto ed ebbe stretti contatti con gli artisti fiorentini più all'avanguardia dell'epoca in particolare brunelleschi alla corte di papa eugenio iv che seguì nelle varie tappe del suo pontificato ebbe numerosi incarichi e poté godere di benefici ecclesiastici scrisse su una vasta quantità di argomenti il de pictura è il suo primo trattato artistico il de re edificatoria è invece un ampio scritto sull'architettura il de statua è un breve trattato sulla scultura il de re edificatoria a un primato terminato nel 1452 nel 1485 divenne il primo libro stampato di argomento architettonico in tutti i suoi scritti alberti abbandonò la visione medievale per cui l'arte era considerata espressione simbolica di verità teologiche mise invece al centro il fondamento razionale delle arti e la necessità per l'artista di avere un'ampia conoscenza di base che spaziasse dalla storia alla poesia alla matematica al 1450 circa risale il suo primo lavoro come architetto si tratta della risistemazione esterna della chiesa di san francesco arimini ora noto come tempio malatestiano all'epoca alberti era un cinquantenne massimo teorico dell'arte che non aveva ancora costruito nulla ma diventerà il prototipo dell'artista intellettuale moderno alberti divenne poi consigliere in materia d'architettura di ludovico gonzaga a mantova dove realizzò le chiese di sant'andrea e san sebastiano in entrambe le strutture l'architetto adottò delle soluzioni innovative creando dei veri e propri prototipi che saranno poi ripresi più volte dal sedicesimo secolo in avanti a firenze si occupò delle facciate di santa maria novella e di palazzo ruccellai e della cappella del santo sepolcro nella chiesa di san bancrazio tutte queste opere architettoniche sono considerate tra i lavori più importanti del primo rinascimento nel campo dell'architettura alberti lavorò anche come pittore e scultore ma sopravvivono poche testimonianze del suo lavoro in questi campi nessuno dei suoi dipinti è arrivato fino a noi ma gli sono attribuiti due autoritratti su medaglioni in bronzo realizzati attorno al 1435 leon battista alberti è il modello dell'artista intellettuale mentre quasi tutti gli artisti contemporanei ad alberti provenivano dall'artigianato lui si dedicò allo studio alla ricerca e alla passione per le antichità con leon battista alberti per la prima volta l'antico diventa moderno e il moderno antico se il video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao